Buon inizio di settimana, ben ritrovati, apriamo il nostro telegiornale con lo spazio della notizia del giorno e oggi parliamo di commemorazione con il titolo tramare impegno sociale, ricordiamo il capitano comandante Franco Bosco, oggi si sono tenuti i funerali di un uomo che ha certamente segnato con la sua attività diversi ambiti del costume, dell'economia del capoluogo. Vediamo il servizio. La cattedrale di San Lorenzo era gremita di parenti, amici e di tanti che nella loro vita hanno incrociato il comandante Franco Bosco, dai lavoratori del porto ai soci dell'Unione Maestranze, dai semplici conoscenti a quanti dal comandante hanno ricevuto un saggio consiglio, un prezioso suggerimento. Franco Bosco aveva 90 anni, molti dei quali vissuti in mare, navigando in Atlantico, nel Pacifico, nel suo Mediterraneo, fino ad approdare nel porto di Trapani nel 1962 dove entrò come capo dei piloti. La sua fu un'attività legata anche allo sviluppo del porto di Trapani e della città nel suo complesso. Fu in prima linea già nel 1968 quando il terremoto danneggiò l'ospedale di Trapani e con altri approduttò un rifornimento idrico d'emergenza perché divenisse fruibile la nuova struttura del Sant'Antonio Abate nel comune di Edice. E ancora in comitato organizzò la richiesta della nuova stazione marittima presso il Molo Sanità, sempre pronta a rappresentare la gente del porto, fino alle ultime riunioni con l'autorità portuale di sistema per discutere dei temi del waterfront e del nuovo piano regolatore del porto. Fu fondatore nel 1974 e primo presidente e fino alla morte presidente onorario della Unione Maestranze di Trapani ha curato per 20 anni la direzione della processione dei misteri. Noi dobbiamo tutti e tutto al comandante Bosco, dobbiamo in questo caso pensare che in 50 anni fa ha costituito l'Unione Maestranze. Lui da uomo di mare, conoscitore di tante intemperie, di tante tempeste, è stato anche conoscitore di uomini, uomini che hanno creato e hanno portato avanti un'identità trapanese che è notevole, ha regalato a noi questa grande eredità di portare avanti una processione e un'organizzazione perfetta, ha regalato a Trapani questa processione che non è diventata solamente di Trapani ma è diventata una processione internazionale. Come uomo di mare ha solcato anche altri lidi, ha conosciuto anche altre realtà come quelle della Spagna, ha legato rapporti di gemellaggio con Malaga e con Siviglia, perciò cosa dire di un uomo che in questo caso 50 anni fa vedeva oltre. Oggi lo hanno voluto ricordare tra i tanti anche il sindaco di Trapani Giacomo Tranchire che ha sottolineato come Franco Bosco si sia distinto per tutta la vita tra lavoro marittimo e impegno sociale, fondando i suoi legami non sull'autorità del grado ma sull'autorevolezza del carisma. Franco Bosco è stato anche assessore e vice sindaco di Trapani, presidente della Camera di Commercio, presidente del Rotary Club, presidente del Fondo Sociale di Mutua Assistenza e Previdenza fra i piloti dei porti italiani, componente della consulta difesa del mare, presidente assonautica provinciale, presidente della Commissione Permanente Marittima Provinciale, presidente del Consorzio del Porto. Il comandante della Capitaneria, il capitano di Vascello Guglielmo Cassone, sebbene a Trapani da pochi mesi, lo ha voluto ricordare per il profondo legame che Bosco ha sempre avuto con i precedenti comandanti e con tutti gli uomini della Guardia Costiera e Capitaneria di Porto e ha voluto rivolgere un saluto al marinaio, augurandogli per l'ultimo viaggio Ceri Azzurri e Mari Calmi. L'ultimo saluto al comandante Franco Bosco lo ha rivolto il suo porto, il porto di Trapani, per il quale si è a lungo speso, conseguendo importanti successi. La sua gente, la gente del mare, lo ha salutato con il lungo suono delle sirene. Personaggi certamente che hanno fatto la storia e anche l'identità delle città di Trapani e non solo. Continuiamo il nostro telegiornale, tra poco la prima edizione. I titoli di oggi, PD, la crisi è servita, polemiche a sondi comunicati tra i dirigenti del Partito Trapanese, una crisi però che ha già visto dieci giorni fa circa le dimissioni dalla carica di segretario comunale del Partito a Trapani di Andrea Rallo. Alberi a dimora, l'Associazione per il Verde Pubblico e l'Aredo Urbano di Trapani ha piantato due giovani eritrine che hanno preso il posto di quelle abbattute. La prima casa di Paul Harris, consegnata a Menfi all'area Rotary Drepano, un casa mobile che sarà destinata ad interventi filantropici. Capofila del progetto Il Rotary di Trapani, guidato da Gaspare Panfalone. Trapani canta con Claudio Baglioni, emozioni forti al Teatro Arison per il concerto del cantautore romano. Infine lo sport, amarezza, granata, sospeso l'incontro tra la pallacanestro Trapani e Rieti per un cambio del canestro non ottimale. Si prospetta lo 0 a 20 a Tavolino, sconfitta invece per 3 a 0. Per quanto riguarda il Trapani calcio, è trasfetta a Castrovindari. Netta vittoria, per fortuna invece quella della Enbol Erice a Teramo. L'approfondimento lo dedichiamo a questo polo culturale di enogastronomia ad Erice grazie all'Istituto Vincenzo Florio. Continua a prendere forma una cittadina studentesca assieme ad un vero e proprio centro di formazione e promozione del territorio, cibo e di tutto ciò che ruota attorno ai buoni sapori della tavola e dal patrimonio ericino. Ne parliamo nell'approfondimento. Apriamo la prima edizione con le fibrillazioni interne al Partito Democratico che si è appresso ad arrivare alla fase congressuale, certamente almeno in queste ore, non con la serenità che serviva. Domenico Venuti, lo sapete, ha fatto ricorso contro l'elezione di Dario Safina, deputato regionale, gli avvocati lo ritengono ineleggibile per una serie di motivi, ma il partito si spacca. Ma a Trapani per esempio c'è anche il caso della dimissione dal segretario comunale di Andrea Rallo. Vediamo. La questione al di là della legittimità della scelta di Venuti riguarda l'opportunità che lo stesso rimanga in carica quale segretario provinciale del PD. A chiedere le dimissioni dall'incarico sono stati soprattutto gli ex membri della segreteria provinciale PD di Trapani, Marco Campagna, Francesco Crinelli e Marzia Patti che reputano inaccettabile l'uso strumentale del partito operato da Domenico Venuti e prendono le distanze da quello che definiscono un atteggiamento demolitivo. A pare doveroso, da parte nostra scrivono Crinelli, Campagna e Patti, alla luce di ripetute scelte personali non condivise, chiedere le dimissioni di Venuti riconoscendo il venir meno delle condizioni che hanno portato alla sua elezione a segretario provinciale e il fallimento di un'azione politica nata in maniera collegiale e conclusasi in modo assolutamente autoreferenziale. Ancora più grave per i tre il fatto che Venuti abbia proceduto con l'alzeramento della segreteria provinciale proprio all'indomani della notizia del ricorso contro Dario Safina. Un provvedimento preso con un semplice comunicato e senza alcuna riunione. Un partito il PD che si avvia alla fase congressuale con un macigno politico sulle spalle e sebbene Venuti abbia provato a spiegare che il suo ricorso non è mossa politica ma riguarda la sfera dei diritti, gli stati d'animo dentro il partito sono tutt'altro che sereni. A gettare acqua sul fuoco arriva la nota dell'ex segretario comunale del PD di Trapani, Francesco Brillante, che invita le parti a mantenere la vicenda negli ambiti della giustizia ordinaria e a non farla scoppiare come caso politico. Ma il caso ormai ha travalicato i confini della politica e appare come l'inizio di una resa dei conti tra le varie componenti. Brillante avverte il dovere di provarci lo stesso e spiega Venuti ha presentato un ricorso in un tribunale, non ha insultato nessuno né millantato, ha esercitato un diritto. Vicende di questo tipo, una volta nelle mani della giustizia, non devono e non possono diventare oggetto di discussione. Ma sulle dimissioni di Venuti dalla carica di segretario provinciale del partito insiste l'ex parlamentare regionale Camillo Oddo, attuale componente della direzione regionale e provinciale del partito. Insomma, per il PD sembra che la strada della condivisione dell'unitarietà sia acqua passata. Fibrillazioni in quelle interne che avevano avuto in là, dieci giorni fa, dalle dimissioni dalla carica di segretario comunale del PD di Trapani, di Andrea Rallo. Una notizia questa, tenuta a bada sia dallo stesso Rallo che da tutto il partito. Evidentemente c'è più di una discussione interna al partito e lo scontro venuto di Safina con il posizionamento delle tifoserie di parte è solo la punta dell'iceberg. Cambiamo argomento, la regione siciliana ha sanziato oltre 4 milioni di euro per le scuole paritarie. Per l'assessore Mimmo Turano si tratta di interventi concreti a sostegno dell'educazione. Dalla regione contributi per oltre 4 milioni di euro alle scuole paritarie primarie e secondarie di primo grado della Sicilia. Lo stabilisce il decreto del Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio che destina per l'anno scolastico scorso 2021-2022 la somma di 4 milioni e 140 mila euro del bilancio regionale a 91 istituti di tutta l'isola. Il contributo è stato determinato in relazione al numero di classi con almeno 10 alunni di studenti con disabilità e di coloro che hanno difficoltà di apprendimento con necessità di insegnamento integrativo. Si conferma l'impegno del governo regionale, affermato l'assessore regionale all'istruzione Turano, nel sostegno alle scuole paritarie che svolgono un ruolo importante nell'istruzione, nella crescita e nell'educazione di bambini e ragazzi in ogni angolo della Sicilia, favorendo l'inclusione dei soggetti con difficoltà di apprendimento. A Trapani due eritrine sono state messe a dimora dall'Associazione per il verde pubblico e il decoro dell'arredo urbano Eritros. Vediamo il servizio. L'Associazione Eritros, nata dal comitato spontaneo Salviamo le Eritrine, stamane ha messo a dimora proprio due giovani alberi di eritrina. Uno in Viale Duca d'Aosta, proprio lì dove iniziò la battaglia civica per evitare l'abbattimento delle piante secolari. La giovane eritrina ha preso il posto lasciato libero da una vecchia pianta abbattuta perché ritenuta malata, ma forse si poteva salvare. L'altro albero è stato piantato in piazza Vittorio Veneto, nell'ampio marciapiede di fronte alla questura. Qui l'eritrina fu abbattuta perché alcuni rami furono spezzati dal vento e fu osservato che il tronco era ormai cavo e necessitava l'abbattimento. Ha ragione in quell'occasione. L'Associazione Eritros, attualmente presieduta da Elena Lombardo, in questi anni ha difeso le eritrine dagli abbattimenti senza ragioni, ma riconosce anche la necessità di rimuovere le piante che possono rappresentare un pericolo pubblico. Ne chiede però la sostituzione. Il contributo più importante dell'Associazione, che è intervenuta in diverse altre occasioni, è però il percorso che ha portato alla redazione delle schede tecniche consegnate al Comune lo scorso anno a maggio, che classificano ciascuna eritrina come albero monumentale. I soci di Eritros, inoltre, in questi anni hanno realizzato in prima persona, affiancandosi all'asfittico settore del verde pubblico del Comune, sempre a corto di uomini e risorse, una serie di interventi volti a incrementare il patrimonio arborio della città. Grazie ad Eritros, Trapani ha un'area verde in più, in via Barraco, sottratta all'Incuria, 2000 metri quadrati di piante e aiuole. Ci fermiamo, finisce qua la parte della prima edizione, ma abbiamo ancora altre notizie da darvi tra poco con la seconda edizione. Parleremo di questo evento adesso, la prima casa di Paul Harris a Gibellina, a Memphis, scusate, nell'area del Rotary Drepanum, questa casa mobile che sarà destinata ad interventi filantropici, iniziativa ad opera del Rotary di Trapani. C'è estasi, commozione e felicità per il concerto di Claudio Baglioni che si è tenuto sabato sera a Trapani, parleremo anche di questo, soprattutto da un punto di vista emozionale. E poi a proposito di emozioni, ma in questo caso di rabbia e di delusione, parleremo dell'amarezza appunto per le sconfitte, una certa e una molto probabile della Palacanestro Trapani in questo caso, e invece del 3-0 del Trapani. Per fortuna arrivano le arpie di Elice a farci ritornare il sorriso. Consegnata a Menfi, all'area Rotary denominata Drepanum, che comprende tutti i club Rotary della provincia di Trapani, una casa mobile che sarà destinata ad interventi filantropici, prevalentemente nel settore dell'assistenza medico-sanitaria. Di che si tratta? Vediamolo in questo servizio. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto Le Case di Paul Harris, fortissimamente voluto dal governatore del distretto Sicilia-Malta, Orazio Agro. Quella consegnata a Menfi è la prima casa di Paul Harris. La struttura è stata realizzata dalla ditta Todoro Rimorchi, che ha supportato tecnicamente il progetto finanziato dai club Rotary della provincia di Trapani e dallo stesso distretto Sicilia-Malta. L'iniziativa rientra appunto in una specifica politica del distretto del Rotary e dell'area Drepanum, che ha commissionato la costruzione della casa mobile. Il progetto, per l'appunto, delle case di Paul Harris. È un progetto distrettuale lanciato quest'anno e vuole mettere in rete le professionalità dei soci e dei rotariani. Per far questo cerca di trovare dei luoghi fisici attraverso quale poter esercitare le nostre professionalità e metterle al servizio della collettività gratuitamente. molti club hanno scelto di prendere in comodato d'uso alcuni immobili, dove poter creare materialmente delle stanze, dei luoghi, dove poter fare qualunque tipo di servizio che possa servire alla società, medico, sanitario, di carattere consultorio. Il gruppo dei club dell'area Drepanum ha invece deciso di lanciare un'idea progettuale innovativa, che è quella di un veicolo, una casa mobile. Questo ci consentirà di poter offrire i nostri servizi gratuitamente alla collettività in tutte le piazze della provincia di Trapani. In questa struttura, che potete vedere, i nostri medici, i nostri operatori, potranno contribuire al miglioramento della nostra società, perché poi questo è l'intento. La casa mobile andrà in giro per tutto il territorio della provincia di Trapani, per fornire prevalentemente assistenza medico-sanitaria. Il progetto vede come capofile il club Rotary di Trapani, guidato da Gaspare Panfalone. Quindi è un progetto che nel mondo Rotary, nel mondo distrettuale, questo non è cosa da poco, è il primo e quindi per il Rotary, per l'organizzazione Rotary, questa area ha raggiunto un risultato sicuramente di grande soddisfazione. Ma un altro aspetto, e quindi che riguarda tutti noi, quelli che oggi sono presenti, è la prova del lavoro e dell'impostazione che abbiamo dato a questo lavoro rotariano, a questo servizio rotariano, direi di metodo, di un lavoro di squadra. Ecco perché noi siamo i più anziani e è un fatto o con una militanza rotariana più lunga, ma è un fatto, diciamo, soltanto di questa natura. Noi abbiamo fatto, abbiamo realizzato questo obiettivo con questo spirito, con questa cultura del lavoro di gruppo, ma seriamente, che rappresenta una forza e poi alla fine finisce per soddisfare lo spirito di questo tipo di associazioni. È un obiettivo, il Rotary rappresenta una classe dirigente, siamo classe dirigente, mi piace sottolineare questo aspetto, e realizziamo questo obiettivo, questa funzione in una maniera sicuramente meritevole, è un successo. Vedremo questa casa in giro, si possono anche raccogliere, diciamo, suggerimenti e iniziative, iniziative perché poi quando si usa la parola inglese, service, che può sembrare una parola vuota, dobbiamo riempire questa parola. Quindi il service che cos'è? Attraverso questo strumento, attraverso il tempo, attraverso le nostre professionalità, permettere al territorio e alla gente che vive il territorio di avere, diciamo, dei servizi e quindi fare filantropia in questa maniera. Anche Trapani con le donne dell'Iran, sabato pomeriggio a Palazzo Cavarretta, un gruppo di donne in rappresentanza di associazioni, sindacati e partiti, vediamo le immagini, però senza alcuna bandiera hanno manifestato la loro solidarietà con le donne iraniane, perché non cali l'attenzione sulla strage delle donne iraniane iniziata il 16 settembre dopo la morte di Masha Amini. Il sacrificio delle vittime, soprattutto donne giovani, ha fatto cadere il velo dagli occhi del popolo, dicono, oltre che dal capo delle donne. E ha dato loro la forza per insorgere, non più quindi una protesta, ma forse l'inizio del cambiamento, forse una vera rivoluzione iniziata proprio dalle donne iraniane al grido di donna, vita, libertà. Sabato scorso a Trapani al Cineteatro Harrison è arrivato Claudio Baglioni, vediamo quali sono alcune delle emozioni di questa bellissima lunga serata. Poche cose come la musica e le canzoni sono memoria personale in alcuni casi e condivisa in altri. Nel caso di Claudio Baglioni le due circostanze spesso coincidono, perché in 50 anni l'autore romano ha scritto decine e decine di canzoni che sono poi diventate la colonna sonora delle vicende della vita di ognuno di noi. E poter cantare tutti insieme, noi e l'autore, quelle parole e quelle melodie è semplicemente pura magia, momenti catartici dove il tempo si ferma e a correre è solo l'emozione. Amore bello come un bacio, amore bello come un bacio, amore bello come un bacio, amore mio, amore bello come un bacio, perché così, perché finisce tutto qui. Grazie, grazie a chi c'è speso per rendere possibile questo grande momento di civile condivisione. Emozioni certamente. Stasera alle 20.45 in diretta ed in replica poi a mezzanotte per gli appuntamenti su Tele Sud, torna Sport Sud in studio con la collega Stefania Renda, i giornalisti Michele Scandariato e Federico Tarantino e Lorena Benincasa, la capitana della Handball Erich. In tribunetta invece spazio ad una rappresentanza della Under 15 della Pallacanestro Trapani. Alle 23 andrà in onda invece una nuova puntata di Res Pubblica suddivisa in due parti. Nella prima ospite, proprio per parlare della crisi politica del Partito Democratico, ci sarà l'onorevole Camillo Oddo. Nella seconda parte invece due presidenti di sezione, due presidenti di seggio che si soffermeranno con me sulle ultime elezioni a mesi di scemi e spiegheranno un po' meglio il ruolo proprio dei presidenti di sezione e degli scrutatori in genere. Ci fermiamo adesso, lo sport tra poco. Ci rammarichiamo per quello che è successo ieri per quanto riguarda la partita della Pallacanestro Trapani. Il canestro danneggiato non è stato sostituito adeguatamente nei tempi previsti dal regolamento. Quindi la Pallacanestro Trapani, sebbene fosse in vantaggio di 10 punti sugli avversari, rischia quasi certamente la sconfitta a Tavorino per 0-20. Un pomeriggio davvero triste quello di ieri per il basket trapanese. A mezzogiorno la Pallacanestro Trapani ospitava Rieti per l'ottavo turno di campionato. Una partita molto importante per la classifica perché dando seguito alla vittoria di domenica scorsa a Roma, vincere anche contro Rieti avrebbe voluto dire mantenere la squadra laziale dietro a quattro punti e poter affrontare l'altra sfida importante, quella di domenica prossima contro la Juvi Cremona con ottimismo. Ma così non è andata, ma non sul campo, che invece ha offerto una partita ben giocata da Granata, capace di giocare due quarti di assoluto valore e di portarsi oltre il più venti e di gestire, nonostante i due lunghi, Carter e Zezeroku fuori per 5 falli, il terzo quarto e l'inizio dell'ultimo sopra di 10 punti. Ma a 7 minuti e 56 secondi ecco la svolta amara della partita. Una schiacciata di Timperi, giocatore di Rieti, pega il canestro. Trapani ha 30 minuti a disposizione, da regolamento per sostituirlo. Gli arbitri ne concedono anche 10 in più, ma il cambio non è ottimale. La partita viene sospesa, con in Granata sopra di 10 punti e con Rieti che ha la possibilità di chiedere lo 0-20 a tavolino, cosa che ovviamente farà e che quasi certamente verrà accolta. Oltre al danno la beffa. Sono diverse le considerazioni da fare, oltre all'opportuna amarezza di fronte ad una squadra che comunque reagisce alle avversità. Ora occorre che tutti si remi dalla stessa parte e che la società spieghi l'accaduto ed un silenzio stampa di davvero difficile comprensione. Anche il Trapani Calcio, l'FC Trapani 1905, esce sconfitto dal campo del Castrovillari. Un 3-0 che la dice Luca. Pomeriggio maro per il Trapani Calcio di scena ieri a Castrovillari per la dodicesima giornata del campionato di serie di Gironei. Una netta sconfitta, forse troppo roboante per i ragazzi di mister Alessandro Monticciolo, che si schiera con il 3-5-2 in una sfida che molto voleva dire in termini di risalita in classifica. Passano in vantaggio dopo la mezz'ora padrone di casa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Mirabelli viene colpevolmente lasciato solo e realizza l'1-0, risultato con cui si chiuderà il primo tempo. Al rientro dagli spogliatoi Monticciolo inserisce Musso passando al 4-3-3. Qualche azione pericolosa per il Trapani che però all'85esimo va sotto di un'altra rete che porta alla firma del subentrante la ragione. Al novantesimo a chiudere i conti per il Castrovillari c'è Cosenza che sfrutta a suo vantaggio le davvero pessime condizioni del campo dovute al maltempo per realizzare la terza rete che sancirà il 3-0 finale. Un risultato corposo che è onestamente troppo per un Trapani che comunque ha cercato di reagire allo svantaggio pagando le distrazioni e le leggerezze nelle occasioni degli avversari. Ecco le parole dell'allenatore Granata in conferenza stampa. E' difficile commentare un 3-0, risultato un po' pesante per quello che si è visto in campo perché il primo tempo è stato equilibrato, purtroppo abbiamo perso una marcatura e abbiamo subito il solito gol dall'unico tiro in porta che avevano fatto loro. Noi siamo entrati anche più volte in area, abbiamo calciato parecchie volte in porta e abbiamo creato situazioni solamente di pericolo e ci troviamo sotto 1-0. L'inizio della partita al secondo tempo ho provato a inserire il terzo attaccante, siamo arrivati lì diverse e diverse volte però non siamo riusciti a pareggiarla e poi dopo il finale di gara l'abbiamo visto, abbiamo fatto un Arachiri e ci siamo fatti due gol da soli e quindi il risultato è pesantissimo, è una partita che non deve finire assolutamente 3-0, la devi tenere aperta fino alla fine, però è così, adesso questo è un periodo che ci tirano due volte e mezzo in porta, ci fanno tre gol e quindi dobbiamo rialzare la testa prima possibile. No ragazzi, non credo che dirò niente perché non servono le parole, in questo momento serve solo lavorare, ci dispiace, ci dispiace tantissimo per i nostri tifosi, per l'ambiente, per la società, per noi stessi in primis perché abbiamo fatto tante ore di viaggio, ci aspettavamo una partita del genere però con un risultato sicuramente diverso. Per fortuna che ci sono le arpie a tirarci su il Molala. Bel momento per le arpie dell'handbol erice che inanellano facilmente l'ennesima vittoria, la terza di fila in trasferta contro Teramo. In avvio le ragazze di coach Kokuzza si portano in vantaggio nonostante la non scioltezza realizzativa che però migliora vistosamente alla fine della prima frazione di gioco, per poi concretizzarsi al meglio nel secondo tempo, periodo in cui le padrone di casa non trovano per niente la via del gol e le ericine devono solo allungare, portandosi prima sul più 10 per chiudere l'incontro 14 a 35. Soddisfatte quindi le siciliane che danno forza ad un momento d'oro, 12 punti in classifica e terzo posto. Per la non aggiornata di campionato, l'handbol erice ospiterà Prato in casa. Mario Torrente nella pagina dell'approfondimento di oggi torna ad occuparsi e ad informarsi dell'Istituto Ignazio e Vincenzo Florio di Erice che pochi giorni addietro ha inaugurato 7 nuovi appartamenti realizzati nell'ex hotel Igea ad Erice, appartamenti che saranno destinati ai propri studenti che sempre più numerosi ormai pernottano nel borgo del monte. Ad Erice sta iniziando a prendere forma quindi questo polo culturale e no gastronomico. Grazie all'Istituto Ignazio e Vincenzo Florio Erice sta diventando sempre più una cittadina studentesca. Ormai tra il San Carlo e l'hotel Igea più di 70 studenti pernottano stabilmente nel borgo medievale degli appartamenti realizzati nelle storiche strutture svolgendo oltre il normale percorso didattico tra lezioni e laboratori anche le altre attività messe in campo dalla scuola guidata dalla dirigente Pina Mandina che in questi anni ha ampliato molto l'offerta formativa dell'Istituto e l'obiettivo è di continuare su questa strada portando ad Erice oltre che studenti anche cultura e no gastronomica. Una scuola che cresce sempre più, che si amplia e che offre anche luoghi dove stare quindi dove fare cultura e studiare. Cosa sta diventando l'Istituto Ignazio e Vincenzo Florio di Erice? Noi siamo scuola e quindi il nostro progetto è un progetto sicuramente di formazione e di promozione culturale con l'obiettivo di valorizzare un territorio in cui la scuola appunto insiste e su cui ovviamente ha messo radici. La scuola è cresciuta e cresciuta in termini di offerta formativa, noi abbiamo anche creato di fatto un liceo che abbia proprio questa curvatura verso la promozione culturale del cibo, un cibo che è linguaggio e che non è soltanto frutto di operatività. È un modo per esprimere appunto la vocazione del nostro territorio che è un territorio sicuramente che offre già tanto di suo per la bellezza culturale, per la storia, l'architettura, l'archeologia e la cucina. Quindi per noi è essere scuola territorio, per noi questo è il progetto che una scuola deve portare avanti, non rimanere fuori dal luogo in cui appunto nasce e cresce una comunità ma essere la comunità di una città ed essere anche un po' l'elemento propulsivo di una rinascita di una città. Una scuola che diventa in pratica un polo culturale partendo dall'enogastronomia ma si apre un mondo ed erice è un mondo. Sì, una scuola che ha avuto delle esperienze che sono andate in questa direzione, abbiamo molto lavorato nel creare interlocuzioni efficaci anche con tutto il mondo per esempio dell'enoturismo, il mondo delle cantine, dei produttori. Abbiamo lavorato per la costruzione di eventi in appunto in rete al fine proprio di poter essere in qualche modo non solo presenti ma elementi veramente di approfondimento, di crescita. Quindi l'enogastronomia che diventa anche una piattaforma di offerta turistica, possiamo dirlo? Sì, quello è l'obiettivo e la mission della nostra scuola. In realtà noi non siamo soltanto operatori, noi siamo promotori e intendiamo valorizzare questo territorio e quella che è la cultura legata al nostro territorio anche attraverso l'enogastronomia perché l'enogastronomia e il cibo di fatto sono cultura e ci rappresentano veramente nel nostro escursus storico e antropologico, sociologico, culturale. Quindi questo è l'obiettivo della scuola. Devo dire che in questo abbiamo trovato un'amministrazione, è giusto sottolinearlo perché il progetto nasce come un progetto comune di rete, di sistema tra la scuola, tutti gli interlocutori che ruotano intorno alla scuola che sono appunto gli operatori del settore e anche l'amministrazione ericina che insieme a me ha sognato l'idea e ha realizzato la possibilità di avere poi quelle location che potessero garantire ai ragazzi non soltanto di permanere ad erice ma di viverci e diventare comunità ericina. Io credo moltissimo nel concetto di comunità e credo che la comunità si faccia appunto attraverso il dialogo tra tutte le parti. Abbiamo un aggiornamento. I carabinieri di Trapani hanno arrestato un pregiudicato trapanese di 45 anni. L'uomo doveva scontare alcune condanne per reati precedenti e gli è stato notificato anche un ordine di carcerazione dall'ufficio esecuzione penale della procura della Repubblica di Milano. Il 45enne sconterà nel carcere di Trapani 4 anni e 5 mesi complessivi per i reati di estorsione, furto, truffa, minacce e molestie commessi nel capologo Lombardo tra il 2008 e il 2014. Per chi si è messo alla visione del nostro Tg solo adesso, vi ripropongo adesso due servizi di apertura, in particolare quello di politica sulla crisi del Partito Democratico e i funerali del Capitano Bosco. La questione, al di là della legittimità della scelta di Venuti, riguarda l'opportunità che lo stesso rimanga in carica quale segretario provinciale del PD. A chiedere le dimissioni dall'incarico sono stati soprattutto gli ex membri della segreteria provinciale PD di Trapani, Marco Campagna, Francesco Crinelli e Marzia Patti, che reputano inaccettabile l'uso strumentale del partito operato da Domenico Venuti e prendono le distanze da quello che definiscono un atteggiamento demolitivo. A pare doveroso, da parte nostra, scrivono Crinelli, Campagna e Patti, alla luce di ripetute scelte personali non condivise, chiedere le dimissioni di Venuti, riconoscendo il venir meno delle condizioni che hanno portato alla sua elezione, al segretario provinciale e il fallimento di un'azione politica nata in maniera collegiale e conclusasi in modo assolutamente autoreferenziale. Ancora più grave per i tre il fatto che Venuti abbia proceduto con l'azzeramento della segreteria provinciale proprio all'indomani della notizia del ricorso contro Dario Safina, un provvedimento preso con un semplice comunicato e senza alcuna riunione. Un partito, il PD, che si avvia la fase congressuale con un macigno politico sulle spalle e sebbene Venuti abbia provato a spiegare che il suo ricorso non è mossa politica ma riguarda la sfera dei diritti, gli stati d'animo dentro il partito sono tutt'altro che sereni. A gettare acqua sul fuoco arriva la nota dell'ex segretario comunale del PD di Trapani, Francesco Brillante, che invita le parti a mantenere la vicenda negli ambiti della giustizia ordinaria e a non farla scoppiare come caso politico. Ma il caso ormai ha travalicato i confini della politica e appare come l'inizio di una resa dei conti tra le varie componenti. Brillante avverte il dovere di provarci lo stesso spiega che Venuti ha presentato un ricorso in un tribunale, non ha insultato nessuno né millantato, ha esercitato un diritto. Vicende di questo tipo, una volta nelle mani della giustizia, non devono e non possono diventare oggetto di discussione. Ma sulle dimissioni di Venuti dalla carica di segretario provinciale del partito insiste l'ex parlamentare regionale Camillo Oddo, attuale componente della direzione regionale provinciale del partito. Insomma, per il PD sembra che la strada della condivisione dell'unitarietà sia acqua passata. Fibrillazioni in quelle interne che avevano avuto in là, dieci giorni fa, dalle dimissioni dalla carica di segretario comunale del PD di Trapani, di Andrea Rallo. Una notizia questa, tenuta a bada sia dallo stesso Rallo che da tutto il partito. Evidentemente c'è più di una discussione interna al partito e lo scontro venuti sa fina con il posizionamento delle tifoserie di parte e solo la punta dell'iceberg. La cattedrale di San Lorenzo era gremita di parenti, amici e dei tanti che nella loro vita hanno incrociato il comandante Franco Bosco, dai lavoratori del porto ai soci dell'Unione Maestranze, dai semplici conoscenti a quanti dal comandante hanno ricevuto un saggio consiglio, un prezioso suggerimento. Franco Bosco aveva 90 anni, molti dei quali vissuti in mare, navigando in Atlantico, nel Pacifico, nel suo Mediterraneo, fino ad approdare nel porto di Trapani nel 1962, dove entrò come capo dei piloti. La sua fu un'attività legata anche allo sviluppo del porto di Trapani e della città nel suo complesso. Fu in prima linea già nel 1968 quando il terremoto danneggiò l'ospedale di Trapani e con altri approduttò un rifornimento idrico d'emergenza perché divenisse fruibile la nuova struttura del Sant'Antonio Abate nel comune di Edice. E ancora in comitato organizzò la richiesta della nuova stazione marittima presso il molo Sanità, sempre pronto a rappresentare la gente del porto, fino alle ultime riunioni con l'autorità portuale di sistema per discutere dei temi del waterfront e del nuovo piano regolatore del porto. Fu fondatore nel 1974 e primo presidente e fino alla morte presidente onorario della Unione Maestranze di Trapani. Ha curato per 20 anni la direzione della processione dei misteri. Noi dobbiamo tutti e tutto al comandante Bosco. Dobbiamo in questo caso pensare che 50 anni fa ha costituito l'Unione Maestranze. Lui da uomo di mare, conoscitore di tante intemperie, di tante tempeste, è stato anche conoscitore di uomini. Uomini che hanno creato e hanno portato avanti un'identità trapanese che è notevole. Ha regalato a noi questa grande eredità di portare avanti una processione e un'organizzazione perfetta. Ha regalato a Trapani questa processione che non è diventata solamente di Trapani, ma è diventata una processione internazionale. Come uomo di mare ha solcato anche altri lidi, ha conosciuto anche altre realtà, come quelle della Spagna. Ha legato rapporti di gemellaggio con Malaga e con Siviglia. Perciò cosa dire di un uomo che in questo caso 50 anni fa vedeva oltre. Oggi lo hanno voluto ricordare tra i tanti anche il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchiria, che ha sottolineato come Franco Bosco si sia distinto per tutta la vita tra lavoro marittimo e impegno sociale, fondando i suoi legami non sull'autorità del grado, ma sull'autorevolezza del carisma. Franco Bosco è stato anche assessore e vice sindaco di Trapani, presidente della Camera di Commercio, presidente del Rotary Club, presidente del Fondo Sociale di Mutua Assistenza e Previdenza fra i piloti dei porti italiani, componente della Consulta Difesa del Mare, presidente Assonautica Provinciale, presidente della Commissione Permanente Marittima Provinciale, presidente del Consorzio del Porto. Il comandante della Capitaneria, il capitano di Vascello Guglielmo Cassone, sebbene a Trapani da pochi mesi, lo ha voluto ricordare per il profondo legame che Bosco ha sempre avuto con i precedenti comandanti e con tutti gli uomini della Guardia Costiera e Capitaneria di Porto e ha voluto rivolgere un saluto al marinaio, augurandogli per l'ultimo viaggio Ceri Azzurri e Mari Calmi. L'ultimo saluto al comandante Franco Bosco lo ha rivolto il suo porto, il porto di Trapani, per il quale si è a lungo speso, conseguendo importanti successi. La sua gente, la gente del mare, lo ha salutato con il lungo suono delle sirene.